Ciao sono Dunno e state guardando Vini Li Belli with Dunno, come sempre vi faccio vedere dischi particolari e belli, soprattutto dal punto di vista del packaging. Quello di oggi infatti non è da meno. Because the internet? Di Cailish Gambino. Cailish Gambino, ovvero Donald Glover, è un artista tutto tondo, famoso sia per le sue doti musicali, che per quelle d'attore e scrittore. Ha recitato per parecchi anni nella serie Community. È apparso in qualche film, e ha scritto e interpretato una sua serie. Atlanta. Bellissima, ve la consiglio. Sarà anche Lando Carlicia nello spin-off di Star Wars, su An Solo. Il packaging di questo disco è molto curato. Già la versione CD presenta in copertina un'animazione olografica. Questa in vinile invece ha lo sfondo traslucido. All'interno troviamo i due vinili, con copertine molto colorate. E poi la chicca. Troviamo un booklet ben stampato, con una sceneggiatura di 70 pagine scritta dallo stesso Cailish. Leggendola si possono capire meglio le tematiche del disco, come se ogni traccia fosse parte della storia. Infatti la sceneggiatura ci dice anche quando far partire un determinato pezzo. Il disco da avere, molto particolare, link in descrizione. A breve vi farò vedere anche il suo nuovo disco, Awekens, My Love. Come sempre fatemi sapere, commentate, likeate e iscrivetevi. Ciao! Roscovecit! Ciao! 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 Ciao!